ciao a tutti siamo tornati ad albera ligure esattamente come l'anno scorso esattamente come l'anno scorso da qui andiamo al paese di vendersi a vedere gli spaventapasseri e la fioritura di lavanda però questa volta qua l'allungo di un bel po perché è da un po che voglio salire sul monte giarolo e andare il rifugio pieno di san lorenzo quindi per me oggi la gita sarà un po più lunga i ragazzi si fermano a vendersi e poi li raggiungo tre ore più tardi mi sa perché è bella lunghetta bene ora ci prepariamo i ragazzi si stanno preparando e si parte albera ligure esattamente dove abbiamo parcheggiato l'anno scorso a dopo se magna è prima di partire se magna cos'è danni il pistacchio e zona cioccolato bene appena finiscono di mangiare andiamo e oggi è il primo giorno che fa caldo oggi fa caldo oggi sabato 29 giugno e fa caldo già alle 9 e 15 del mattino vabbè ci sta dopo un po di asfalto adesso incrociamo un bivio che diventa sterrata e dovrebbe essere tutto sterrato fino a giarolo adesso fino spiana al bivio travendersi il giarolo allora questo è il bivio che questa strada qua arriva da cantalupo praticamente e ne arriviamo albero e il bivio che poi ci porta dove dobbiamo andare andiamo forza in marcia andiamo hai perso il beretto bene adesso praticamente siamo arrivati al bivio che è una strada provinciale adesso loro proseguono verso vendersi e io subito qui c'è il bivio che sale il rifuso pieno di san lorenzo e il giaro poi tornando indietro l'incontro passando dalla strada ciao papà ciao ciao vediamo dopo ciao ecco che ho appena preso il bivio per arrivare sul giarolo e macan tre chilometri a rifugio più due e mezzo per arrivare al monte allora non vi ho detto che ma l'avete già visto l'avete capito che questa gita qui l'abbiamo fatta l'anno scorso anzi ve l'avevo detto e non sono venuto su di qua ma siamo andati direttamente al paese degli spavimenti a plasteri bene sono in discesa solamente per il fatto che ho superato il bivio per andare ai piani di san lorenzo ma è stata una bella salita bella non troppo lunga comunque si fa tranquillamente chiunque ora dopo 500 metri sono rifugio che meraviglia che prato ragazzi che prato bellissimo eccoci sono tornato da rifugio questa quella palina per il giarolo un chilometro e mezzo circa eccoci manca poco troppo caldo tempo basso non ci vedremo manco la vista probabilmente perché e anche e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. È venuto un po' foschioso, più di quello che era, perché stamattina era più bello il tempo e adesso è nuvolo, foschia, più che altro foschia. La vista mi ha risentito un po', però è quello che è capitato, quindi adesso sto tornando indietro, esattamente dalla stessa strada, per fare prima, che dovrei essere entro un'ora a vendersi. Questa deve essere roba di ducchi, eh? Pericolo, veramente non la vedo, guarda. Grazie a tutti. 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 Ehi, 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 abbiamo incontrato questa bellissima aria picnica ai mulini di Santa Maria. Molto carina, con tanto di laghetto, è veramente bello perché in queste piccole frazioncine c'è una cura e una dovizia di particolari veramente sorprendente. Quindi, se uno non ci passa piedi, veramente, non riuscirebbe a scoprire tutti questi tesori, è veramente, veramente bello. E siamo arrivati anche al Molino di Santa Maria. Roba che, se non facevamo quella strada lì, scorci non li vedevamo. Ripeto, anche se abbiamo fatto la strada asfaltata, sono felicissimo di averla fatta perché il Molino di Santa Maria merita veramente tantissimo. Avete visto l'immagine degli scorci del Molino, insomma, bello, bello. La città è quasi finita, manca tipo un chilometro albera e ce ne torniamo a casa. Finora non è piovuto, ha fatto un tipo magnà nell'area piccina che avete visto prima e basta. Con questa immagine della valvolvera delle meraviglie, noi vi salutiamo. Manca ancora un venti minuti circa alla macchina, anche meno. e siamo riusciti a schivare la pioggia che era proprio dietro le montagne. E niente, ci vediamo alla nostra prossima gita. Ciao ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.